Signori, come premesso nelle stories pubblicate sul profilo Instagram del canale, troverete link in descrizione, quest'oggi vi voglio parlare di come sono diventato un personaggio di un TCG. Infatti attraverso la matita di Emanuele Riva, creatore e disegnatore delle carte presenti in Creaturo Vexo, che ha fatto la sua prima comparsa qui sul canale, essendo stato protagonista di un episodio della rubrica TCG in meno di 20 minuti, l'Arconte è stato pensato, elaborato e poi sviluppato in modo tale che potesse mettere piede sulle pericolose lande di Exodus, il pianeta dove si svolgono le vicende create dalla mente di Riva. Arconte, fammi capire bene, sarà possibile giocare letteralmente il tuo personaggio in un deck presente in Creaturo Vexo? Esattamente, la carta che rappresenterà la mia figura, e direi anche una bella figura, snella, slanciata. Dovrò iniziare a fare palestra sul serio, ho capito, potrà essere presente in due copie, limite massimo di unità per singolo elemento. E a dirvela tutta, sarò anche piuttosto forte. Infatti il mio effetto, anzi i miei effetti, riporteranno per il secondo distruggi tutte le carte non leader che attaccano o verranno attaccate dal sottoscritto, mentre il primo vedrà la possibilità di aggiungere una carta di colore viola dal mazzo alla mano, quando, ahimè, verrò posto nella pila degli scarti. In più, con un costo pari a 3, con ben 250 punti di forza e i tratti umano, mago e divino, sarò pronto ad accompagnarvi durante le battaglie che affronterete, dando quel pizzico in più di epicità alle vostre avventure. Ma la cosa che più mi ha colpito non è stata unicamente la presenza della carta che mi rappresenta in versione originale, ma anche una limited edition, tiratura uno su uno, firmata direttamente dall'autore, Full Art di Rarita Foil, che senza pensarci neanche un secondo di più, ha immediatamente preso posto nel nuovo studio del canale. La vedrete non appena sarà tutto pronto alle mie spalle, nella sezione traguardi raggiunti, assieme alle carte presentate in anteprima mondiale per Keyforge e all'intervista che ho svolto personalmente a Richard Garfield. Vi farò un breve tour nel video dedicato che sto preparando per l'inaugurazione. Volevo comunque fare ancora una volta i complimenti ad Emanuele per il netto miglioramento che da un anno a questa parte ha fatto a livello artistico, dato che mi ha mandato delle carte aggiornate, sia a livello di layout che di aspetto. E devo dirvi, beh, valutate voi stessi attraverso queste due versioni di recidere il senno. Di certo, il restai generale dell'immagine evidenzia in tutta la sua bellezza il netto miglioramento delle abilità di questo giovane artista, che sono certo ci delizierà ancora con le sue opere sempre più ricche di dettagli. Anche la qualità della carta è migliorata, passando da un classico cartoncino con spessore 300 grammi circa ad un elemento leggermente più spesso con finitura lucida antigraffio. In più, attraverso il lavoro svolto in questo anno passato ad affinare le proprie tecniche artistiche, Riva ha conferito un aspetto molto più professionale e coinvolgente a tutte le carte che verranno stampate nei set futuri. Vi lascerò in descrizione il profilo Instagram di questo gioco, così che potrete da voi ammirare i progressi svolti negli ultimi mesi. Prima di concludere, sempre in descrizione, vi lascerò il link dove potrete preordinare i prodotti di Creature of Exo, assicurandovi la vostra o le vostre copie personali, vivendo una splendida avventura nelle fantastiche lande di Exodus. Cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento, inoltre, potrete accedere al regolamento di gioco spiegato dal sottoscritto in meno di 20 minuti, così che potrete già da subito muovere i primi passi nei panni del vostro leader preferito, magari testando dei match amichevoli su Tabletop Simulator, dove questo GCC è appena stato reso disponibile ai fruitori della piattaforma presente su Steam. Per qualsiasi domanda riguardante questo TCG tutto italiano e le sue meccaniche, non esitate a scrivere qui sotto nei commenti, dove riceverete risposta direttamente dall'ideatore del gioco. Grazie infinite ancora ad Emanuele Riva per questo meraviglioso tributo e a voi per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo questa domenica con il nostro consueto appuntamento settimanale, come sempre alle 8. A presto!